Concorso Vigili a Nola solo in 31 superano la prima prova avanzate perplessità sulla selezione Fondazione Festa dei Gigli nominato soprano presidente De Simone direttore artistico Ambiti sociali si rischia di perdere 2 milioni di euro la denuncia della CGL A 500 anni dall'apparizione della Madonna di Santa Maria Parete è iniziato a Liberi l'anno giubilare Legalità e territorio a Nola varato il presidio di Libera Questi i nostri titoli e adesso una brevissima pausa Benvenuti nel nostro telegiornale Pubblicata la graduatoria della preselezione degli aspiranti vigili urbani a Nola Su 423 aspiranti solo 31 l'hanno superata ed accedono così alla seconda prova scritta La procedura permetterà di formare una graduatoria per l'eventuale assunzione a tempo determinato Ma non oltre la durata di un anno Gianni Amodeo 31 su 423 hanno superato la preselezione per l'inserimento nella graduatoria cosiddetta aperta A cui l'amministrazione comunale può attingere per l'assunzione a tempo determinato per alcuni giorni o alcuni mesi Ma con durata non superiore ad un anno secondo le esigenze di servizio della polizia locale I 31 aspiranti vigili urbani della città bruniana ora si apprestano a sostenere la seconda prova scritta Una selezione, quella compiuta se non dura, certamente severa Articolate in quiz su discipline giuridiche, norme di polizia edilizia, pubblica sicurezza, commercio Per un totale di oltre 21.000 risposte vagliate con il filtro dei supporti informatici Ma quando ci sono concorsi ci sono sempre problemi, perplessità Io che sono un ottimista di natura ritengo che per quanto concerne l'aspetto meramente concorsuale Dobbiamo considerare che in tempi brevissimi siamo arrivati a una preselezione Sulla preselezione per la verità anche io ricepisco le perplessità girateci da molti nostri concittadini E anche qui dal dibattito di consiglio comunale che pensa che sia giusto approfondire la tematica Senza puntare l'indice, però esporre quanto prima e quanto meglio quello che è accaduto Al fine di fare sempre luce, trasparenza e correttezza su tutti gli argomenti che riguardano la vita del nostro ente Ma sono perplessità che potrebbero determinare l'annullamento della preselezione a questo punto? Questo non lo possiamo dire perché se ci sono annullamenti vuol dire che ci sono delle cose non fatte per bene O addirittura dei reati, noi non parliamo di reati, parliamo di perplessità Relativo anche al grande numero di partecipanti e al ridotto numero di ammessi Considerato che da tutti ci è stato detto che la preselezione verteva su argomenti abbastanza semplici, facili Quindi su questo ci sono delle perplessità, come mai nonostante anche abbiamo saputo che hanno partecipato Anche tanti diplomati e laureati solo così pochi elementi sono stati ammessi Che la selezione sia stata rigorosa oltre misura è difficile sostenerlo senza le controprove oggettive E certo però che in gran parte i partecipanti al bando concorsuale sono forniti di diploma, di scuola superiore e anche di titoli di laurea Ma fa ancora più specie il considerevole numero di partecipanti ad una procedura concorsuale Per un'assunzione lavorativa del tutto occasionale e precaria E dire che all'emanazione del bando tre anni fa risposero i mille circa Il dato rappresenta le marcate distorsioni che negli anni si sono venute stratificando in città e sul territorio Accelerando lo sfaldamento delle basi produttive e dell'economia reale Soppiantate dall'economia dei servizi per lo più pubblici Mentre il terziario tradizionale e quello avanzato sono in grave affanno E l'assistenzialismo clientelare intanto non funziona più come moltiplicatore di lavoro finto Nella pubblica amministrazione o negli enti parassitari Adesso parliamo di festa dei gigli e di fondazione Ormai la struttura voluta dal sindaco Geremia Biancardi è diventata operativa Con la nomina del presidente l'avvocato Raffaele Soprano Che resterà in carica 30 mesi Ma è stato nominato anche il direttore artistico ed è stato scelto Roberto De Simone Il prossimo 15 maggio ci sarà la conferenza di presentazione Diventa operativa la fondazione Festa dei Gigli L'organismo fortemente voluto dal sindaco Geremia Biancardi Per ridare slancio ad una manifestazione Che negli ultimi anni si è dovuta confrontare con l'ingerenza delle paranze Con assegnazioni condizionate con le problematiche legate alla sicurezza Con cantieri a norma per la costruzione Vie di fuga da realizzare lungo il percorso nel centro antico E non ultimo le ombre volontariamente create di una festa sporcata dalla camorra E dagli episodi dello scorso anno che hanno generato la sospensione della processione pomeridiana Per gravi motivi di ordine pubblico Si è voluto ripartire per voltare pagina Cercando di dare un nuovo corso ad una festa appiattita dai tanti personalismi Che bene non hanno fatto Ora il nuovo corso inizia con la fondazione che da qualche giorno ha anche un presidente Si tratta dell'avvocato Raffaele Soprano Mentre il consiglio di amministrazione è composto dal vice Agostino Santaniello Da Antonio Daniele e dai membri in rappresentanza della Curia Dollino Donofio e da Angela Celentano Una fondazione che si è dotata anche di un direttore artistico Per una pianificazione concreta in un'ottica nazionale ed internazionale Si tratta di Roberto De Simone Nome di grande caratura malgrado l'età avanzata Le nomine ai programmi saranno illustrate in una conferenza stampa Che si dovrebbe svolgere il prossimo 15 maggio Sicuramente c'è il compito di rilanciare la festa dei Gigli C'è l'impegno a rilanciare l'immagine della festa Perché attraverso queste iniziative che stiamo mettendo in cantiere Con la fondazione che solamente ieri ha fatto la sua prima riunione ufficiale Si pensa di portare la festa fuori da quelli che sono i confini strettamente territoriali Pensiamo ad un concorso nazionale per la predisposizione del manifesto della festa dei Gigli Abbiamo chiamato Roberto De Simone alla direzione artistica della festa dei Gigli Ci prepariamo a portare il Giglio a Pietrelcina Aderendo ad una richiesta in tal senso del sindaco del comune di Pietrelcina E del priore dei frati francescani In occasione di quella bella manifestazione che loro ogni anno mandano in onda su Rai 1 in settembre Sono tutte iniziative queste che devono in qualche modo contribuire a portare la festa dei Gigli Fuori da quei confini regionali per renderla appunto una festa nazionale Possiamo parlare di una rinascita, di una seconda giovinezza della festa dei Gigli Di un punto di ripartenza Guardi, lei è ottimista Noi ce la metteremo tutta Avremo bisogno della collaborazione di tutti quanti i cittadini Avremo bisogno nella formazione delle commissioni che sono previste dal regolamento Dallo statuto della fondazione Avremo bisogno di tutti quei cittadini appassionati, innamorati della festa Profondi conoscitori della festa Che sono disponibili a spendere la loro preparazione La loro conoscenza, la loro fede, la loro passione Perché effettivamente la festa possa ritornare a quelli che sono stati gli antichi splendori E perché no, anche oltre Guardando anche l'UNESCO Assolutamente, assolutamente Sì, tutto questo in previsione del sigillo dell'UNESCO Che dovrebbe arrivare, si spera per settembre Siamo in corsa insieme alle altre macchine da festa Il progetto è in uno stato avanzato Sembrerebbe che le cose vadano bene E' chiaro che arrivato anche il sigillo dell'UNESCO Il giglio potrà volare Oltre che sulle spalle dei collatori Oltre i confini di questo territorio E restiamo nell'area nolana La CGL denuncia gli ambiti sociali dei comuni dell'area nolana e dell'area pomiglianese A rischio l'utilizzo di 2 milioni di euro Stanziati per i servizi a favore dell'infanzia e degli anziani Vediamo La denuncia della CGL chiama in causa le amministrazioni comunali Segnatamente quelle con funzioni di coordinamento Degli ambiti sociali dell'area nolana e dell'area pomiglianese Per una popolazione complessiva di circa 300 mila abitanti Ambiti per i quali si registrano non solo ritardi di programmazione Ma anche inadeguatezze di ordine gestionale e operativo Con cui si rischia di mandare in fumo risorse per 2 milioni di euro E questa la dotazione dei finanziamenti Resi disponibili dal Ministero della Coesione Territoriale Per dare attuazione ai programmi dei servizi a sostegno dell'infanzia e degli anziani dei territori Nel dettaglio evidenzia la CGL All'ambito sociale dell'area nolana sono destinate risorse Per un milione ed oltre 200 mila euro Mentre all'ambito dell'area pomiglianese Sono destinate risorse per circa 800 mila euro Il sindacato pone sotto i riflettori Quelli che giudica veri e propri limiti Dell'azione dei comuni dell'area nolana E l'antagonismo di cui sarebbero responsabili le amministrazioni di Pomigliano d'Arco e di Santa Anastasia Nel contendersi le funzioni di coordinamento del loro ambito Dalle amministrazioni comunali poste sotto accusa E' attesa ora la risposta di chiarimento E' dovuta soprattutto alle fasce deboli delle comunità dei territori Prima che all'opinione pubblica e al sindacato Che ha il merito di aver prospettato la problematica E ci spostiamo a Liberi A Santa Maria Apparete Dopo 5 secoli dalla sua apparizione Si entra nell'anno giubilare Un evento voluto fortemente dalla curia nolana Che va a ricadere proprio nei 5 secoli dall'apparizione della Madonna Alla pastorella Autilia Scala Il Vescovo ha indetto l'anno giubilare Un anno di fede nella piccola comunità Il servizio A Liberi è in corso l'anno giubilare Un'iniziativa fortemente voluta dal Vescovo di Nola Beniamino De Palma In occasione dei 500 anni dall'apparizione di Santa Maria Apparete Alla pastorella Autilia Inizia così un anno particolare per la piccola comunità di Liberi Fortemente legata alla Madonna e al rito della Scala Santa 79 gradini da salire in alternanza con la preghiera Una lunga notte che accompagna al santuario un numero sempre più grandi di fedeli Per quella che è una delle manifestazioni religiose più partecipate Quest'anno ci prepariamo a celebrare il 500esimo anno dell'apparizione della Madonna Ad Autilia Scala Nell'aprile del 1514 Quindi siamo entrati, siamo entrati in clima giubilare Un anno di riflessione Un anno per porci, dicevo lunedì Porci le domande più belle e le domande più serie Perché la vita è bella quando ci si pone domande E la domanda che dobbiamo porci in questo anno E la seguente Ma Dio ha ancora spazio nella nostra società? Ha ancora spazio in questo nostro territorio? Gesù Cristo dice ancora qualcosa? Il Vangelo è ancora una grande possibilità di vita Per la nostra gente Da queste domande scattolisce il cammino giubilare Che io ho chiamato come un grande pellegrinaggio di 12 mesi Per tornare alla sorgente Per tornare alle radici Per tornare un po' al nostro DNA Al nostro DNA Perché se scompare la fede Scompare un grande appoggio Per vivere la vita umana La fede non ci serve per domani La fede ci serve per vivere meglio Oggi Questa nostra vita Questa nostra stagione In questo territorio In questa nostra storia Accanto a queste domande tipicamente di fede Certamente poi con l'aiuto del Comune Bisogna anche aggiungere altre manifestazioni di cultura Di storia Di tradizioni Di tradizioni Che fanno parte Fanno parte Dell'esperienza umana L'uomo vive di fede Ma poi questa fede la esprime In tanti linguaggi È stata istituita nella città bruniana Il presidio di Libera Per la promozione Della diffusione Dei valori Della pratica Della legalità Sui territori L'associazione Unitas Referente del presidio Coinvolte però anche Associazioni e scuole Tra cui Il liceo medi di Cicciano Il servizio Legalità come valore Da vivere e praticare Nella concretezza Della quotidianità Coniucando il senso Della cultura civica Fatta di diritti e doveri E della cittadinanza attiva E non soltanto Come antica morra Tucur Della convegnistica Diritto In questa prospettiva Importante e significativo Approccio Alla complessa tematica Promosso dall'associazione Unitas In collaborazione Con l'associazione Libera Con il diretto coinvolgimento Del liceo polispecialistico Enrico Medi di Cicciano E delle scuole medie Giordano Bruno Fiore E Merliano Tansillo Operanti in città Un approccio mirato Sui beni confiscati Alle camorre E sul loro riutilizzo Per attività sociali E di economia legale E su questa base Costituito il presidio Libera dell'area nolana Di cui Unitas È referente Un presidio Di promozione Della legalità A tutto campo Nel nostro territorio Non si può Prescindere Dal combattere La camorra Ma la camorra In senso lato Anche quella Più subudola Quella che Vuole a tutti i costi Insinuarsi Negli appalti Che vuole Insinuarsi Diciamo Nella gestione Economica Non solo Delle attività private Ma anche Di quelle pubbliche Per evitare Questo E per liberare In parte Il territorio Questo fu Uno dei primi atti Che noi Come giunta Facemmo Anzi come consiglio Comunale Quella di aderire Alla stazione Appaltante E fare in modo Che gli appalti Del comune di Nola Si facessero Presso la prefettura Di Napoli E non al comune Questo per evitare Appunto Sollecitazioni Più o meno Legittime Molto spesso Chiaramente Quasi sempre Legittime Che i nostri Dirigenti Prima ancora Che la politica Avrebbero Potuto subire Allo stesso modo Abbiamo sempre avuto Le idee chiare Sui beni confiscati Alla Camorra Che peraltro Nella città di Nola Sono appena due Li abbiamo Subito Già nel 2009 Trasferiti Al Consorzio Sole Ai fini Della gestione Di questi beni Perché io ritengo Che questa gestione Io ritengo Che sia sbagliata Proprio la legge Nel senso che Questa gestione Non può essere Dei sindaci Anzi Tra virgolette Dico poveri sindaci Che dovrebbero Utilizzare Questi beni E poi Ritirarsi La sera A casa Senza Problemi Penso che sia Più opportuno Che questi beni Vengano Trasferiti E gestiti A livello Di prefettura A livello Di consorzio Di comuni Insieme Alla provincia In maniera tale Che la gestione E l'utilizzo Diventino Spersonalizzati E non imputabili Ad una sola persona A un gruppo Ristretto di persone La legalità Intesa non solo Come anticamorra Ma legalità Come quotidianità Come senso civico Questo è il messaggio Che noi vogliamo Mandare Soprattutto ai più giovani Perché è lì Che si inizia Attraverso una serie Di attività Come quella di stamattina Quella di oggi Infatti ci sarà Un altro dibattito In cui si parlerà Di beni confiscati E soprattutto Altre attività Che faranno parte Di un percorso Che l'associazione Unitas Ha intrapreso Un percorso Che è iniziato Con l'inaugurazione Anche del presidio Di Libra della Noana A cui Unitas Ha aderito E a cui parteciperà Presidio A noi avviso Importante Perché nasce In un territorio Dove c'è sempre stata Una presenza Di organizzazioni criminali Organizzazioni criminali Però come diceva Anche il sindaco Per lo più imprenditoriale Quindi una camorra Imprenditoriale Non visibile Quindi Che ben vengono Queste attività E speriamo Che anche altre associazioni Ci possano seguire In queste attività Per la diffusione Della cultura Della legalità E con questo servizio È tutto Il telegiornale Termina qui Grazie per averci seguito Arrivederci Raffinati dettagli Che arredano il tuo mondo Tufano arredamenti Qualità Ricercatezza Stile Design Per arredare i tuoi spazi Dal classico al moderno Delle migliori case italiane Da Tufano Arredamenti Puoi visitare L'esclusivo showroom Dedicato alle cucine Berloni Da Tufano Qualità dei servizi Personale qualificato Consulenza personalizzata Trasporto e montaggio A regola d'arte Assistenza post vendita Fanno la differenza Tufano Arredamenti Piazzale Ferrovia Saviano www.tufanoarredamenti.it Per ogni arredamento completo Un televisore LCD 32 pollici In omaggio www.tufanoarredamenti.it